Comune di Saviano, settore ambienti ed ecologia, comunicato ufficiale numero 2, corso ispettori ambientali. Si è concluso il giorno 28 dicembre 2015 il corso di formazione per ispettori ambientali volontari, svoltosi presso la sala consigliare del Comune di Saviano. Al corso hanno partecipato circa 30 aspiranti ispettori, tra i quali molti giovani già impegnati nel servizio civile, i quali, oltre a vedere assolto con la loro partecipazione all'obbligo di formazione previsto dal bando del servizio civile stesso, hanno anche manifestato la loro volontà di dare il loro contributo alla tutela dell'ambiente in qualità di ispettori, al di fuori del loro orario di servizio. A loro va il plauso e l'apprezzamento dell'intera amministrazione comunale. Sabato 16 gennaio 2016, alle ore 11.30, alla presenza del sindaco di Saviano, dottor Cammione Sommese, dell'assessore Luigi Cappella e del viceprefetto di Napoli, dottor Donato Cafagna, avverrà la cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione al corso, a tutti coloro che hanno superlato brillantemente l'esame di profitto finale. La consegna sarà effettuata dal direttore del corso, dottor Fulvio Tessaverde, responsabile dell'ufficio settore ambiente del Comune di Saviano, dai docenti dottor Domenico Giannetta, vicecomandante della Polizia Municipale di Atripalda e dall'avvocato Pasquale Ragozzino, esperto in materia ambientale. La cittadinanza tutta è invitata a partecipare.